La storia della storia Ma ora la verità potrà essere di nuovo rivelata Il segreto può farvi ottenere qualunque cosa Felicità, salute, ricchezza Si può essere, avere o diventare tutto ciò che si vuole A quante persone ho visto accadere miracoli Miracoli finanziari, guarigioni da malattie fisiche Da malattie mentali, da problemi nei rapporti umani Sono cose che accadono a coloro che sanno come usare il segreto Grazie a tutti Questo è il grande segreto della vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti